Ciao a tutti ragazzi e bentornati O poi andiamo a mettere sul mio canale Sono DanXD E oggi sabato Come vi ho permesso sono qui per aprire la collezione Di Charizard B di Lens Questa descrizione vi trovate lo scorso spacchettamento Dove andavo ad aprire il set di Zacian Dove vi ho trovato delle belle cosette Ma oggi andiamo a aprire questo qua Allora abbiamo un attimo il packaging Che non è niente male Fantastico direi con Charizard così Quindi non è per niente da buttare Questa qui Ok abbiamo un po' Il retro Beh qui per me ci sono tutte le stesse cose Pronti a fare fuoco di la fiamme Con il Charizard B di Lens Quindi direi subito di andarlo ad aprire Senza cercare di rovinare la scatola Ma che non sia impossibile Visto che rispetto a quello di Charizard Beh no aspetta Rispetto a quello di Charizard È leggermente più complicato Ok niente Ho sicuramente distrutto la scatola Eccolo qua Ecco qui il tutto Qui abbiamo il fogliettino come l'altra volta Pokémon di allenatori Purtroppo non posso leggervelo Lo mettiamo da questa parte qui Poi qua Boh bello così Con tutti i colori di Pikachu È fantastico Non so se si vede però è bellissimo Ok togliamo la carta Geniale questa cosa in plastica Per non farlo venare Ok Questa posso anche buttare via Ed eccolo qui Charizard di Lens Devo dire che dal vivo È tutta un'altra cosa E mi sembra anche abbastanza centrato No 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 qui è leggermente più sottile Che da questa parte qui Comunque prepariamoci la slip E mettiamola E lasciamo qui Abbiamo anche la jumbo Fantastica Lasciamo magari Qua non so se si vede E i pacchetti E questo che va E i quattro pacchetti Quattro pacchetti di Vabbè Celebra Di grandi feste Un pacchetto di fiamme scure Un pacchetto di voltaggio Sfolguerante Qui abbiamo il codice Che vabbè Ve lo regalo Perché tanto Non me ne faccio niente Da quel qua Dai i due pacchetti E poi qua abbiamo Il quattro di celebration Ok Non mi sembra una scammata Perché non mi sembra Che ci sia solamente Una carta in pacchetto Ma perché mi è sembrato Ho visto un sacco di video Dove all'interno della bustiera C'è solamente una carta E la carta codice E in più anche Le carte In spagnolo Quindi andiamo prima con Aspetta Mettiamo quelle carte Che si vedono in modo Chiaro Ecco qui Charizard Non è che si vede chissà che Per la bustiera Andrei con Con fiamme scure Eccole qui Non si vuole aprire Ok Ho praticamente distrutto Il pacchetto Quindi allora Carta codice Che vi regalo Il trick lo faccio a 4 Perché non so mai Qual è il trick Di queste espansioni Ma andiamo Molto veloci e spediti Energia Acqua Fluffy Ops Ho fatto vedere 50.000 carte Allenatori Furet Pansage Wishwash Rookid Torchic Torchic Mr. Maion Di Galar Maiotic Dovrebbe essere Reverso No Non mi ricordo Mai la realtà E poi un Tylon Va bene Ok Questi qua Non sono i pacchetti Che ci interessano Ci interessano più Grandi Fest Poi voltaggio Voltaggio sfolgorante Non mi farebbe Schifo Cercare Trovare un bel Pikachu V Pikachu Di Max Ma Dallo spoiler Che ci ha dato Qui non troviamo niente Carta codice Che vi regalo Il trick lo facciamo Giusto per Far Il video più lungo Energia Psico Allenatore Me Me Kragorg Scusate per la pronuncia Swobat Dreambur Oh scusate Non mi sono accorto Del B Scusate Weeble Voltorb Duscal Meo Degalar Sentry che sembra Shiny Cioè guarda qua Sembra Shiny Ma è Shiny E poi Weylord E basta la mia mano Che schifo di pacchetti Proprio Ma ora abbiamo quelli Che mi interessano Il più Ovvero il 4 di C Celebration Di grandi feste E andiamo Andiamo subito Ad aprirli Forbi c'è la mano Non voglio tagliare I pacchetti Quindi facciamo Molta attenzione Ecco C'è una carta qua Che non si vuole levare Fatemi andare ad aprire Con le mani Perché mi sembra Che c'è una carta Che non vuole scendere E infatti Era la carta codice Che non voleva Proprio Levarsi dalle palle Carta codice Che vi regalo Qui non serve il trick Adesso qui inizia Veramente l'ansia Allora Cosmog Qualsiasi carta Non vuoi per forza Charizard Blastoise Venosauro Anche New gold Però Giuro Mi va bene qualsiasi carta Basta che mi fanno qualcosa Allora Carta codice Che vi regalo Allora Dialga No perché se non trovo niente Qua mi cavolo Ho aspettato questo box Da un sacco di tempo Cosmoen Cosmoen Oh ecco appunto Tenacia Tenacia il team broker Di asidio qualcosa La ricerca del professore Ok va bene Qualcosa abbiamo trovato Tenacia No Tenente del team broker Non tenacia Oh bella la ruidità Ok vabbè A me ho tratto qualcosa Sennò qua mi Mi incavolavo Non mi è stato niente Mi sarebbero anche girate Un po' le palle E ultimo pacchetto Anche se mi sembra un po' Sprecato Sto punto Sto set Non ho molte Aspettative Riguardo a questo pacchetto Carta codice Che vi regalo Palkia Ancora Palkia Ancora Perché di alga Che di alga Xernia Se dietro non c'è niente Infatti Lunala Ma sei serio? Guarda qui Lisa Si può persino individuare Il secondo preciso In cui il suo cuore Si spezza a metà E Adesso Cioè ragazzi Non ho tratto niente Niente interessante Niente di che Questa bellissima carta Di Charizard V E almeno ho trovato Tenaccia il team broker Che schifo Cioè posso dire Che schifo Tutti quanti trovano Charizard cose belle Ma anche i Pikachu Tutti i Pikachu Io trovo queste Togliendo anche la carta Propozionale Ho solamente questo E vabbè Che ci posso fare Mi consolerò Andando a vedere Il film di Venom Beh ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Vi lasciate like Iscrivetevi al canale Condividete questo video Con i nostri amici A te vi seguire Sia su Instagram Che su Twitch E niente ragazzi Ci vediamo i prossimi giorni Con un prossimo video Qui da Nelux Tutto Ciao A tutti Speriamo Speriamo che Nell'Eltra Trainer Box Che scena il 22 Almeno ci sia qualcosa Di interessante Speriamo Speriamo Speriamo